Una partita come tutte le altre, difficili, contro una squadra che viene da 5 risultati utili consecutivi perché ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi e quindi è una squadra che si difende molto bene. Noi dobbiamo andare lì, avere pazienza e soprattutto lottare su ogni pallone perché questo deve essere il nostro obiettivo principale. Tutte le partite possono essere a portata e tutte le partite possono essere difficili se non le interpreti col modo giusto. Il Teramo ha battuto il Padua che è prima in classifica e se la interpreta bene nulla è compromesso. Tutte le partite sono difficili ma noi sicuramente daremo battaglia. Questo deve essere il nostro obiettivo, dare battaglia a tutti perché quando incontreranno il Teramo dovranno sudare le proverbali sette camicie per portare fuori i punti. Come lo dobbiamo fare noi? Per me Varas può fare tutto, per quello che ho visto io può fare tutto. Perché è un positivo, è un giocatore che dove lo metti va, quindi è un giocatore che a me piace. Sicuramente non è semplice però ho visto l'atteggiamento giusto. I ragazzi si sono allenati bene e quindi sono convinto che faranno di tutto per fare una buona partita. Ma questa è una squadra che sa anche palleggiare da quello che ho visto io in settimana. Sicuramente a giocatori davanti che hanno velocità cambio passo tipo Bacio Terracino, tipo Varas, tipo adesso San Domenico, quindi Fratangelo, giocatori che hanno della buona gamba e quindi cercheremo di sfruttare queste caratteristiche. Ci proviamo, l'obiettivo è sempre di provare a fare il meglio. Poi le partite vanno giocate con intelligenza, con equilibrio e con pazienza, però con entusiasmo. Noi dobbiamo avere entusiasmo che è la cosa principale.